Ci sarebbe un'altra persona coinvolta nel tentativo di avvelenamento dell'ex spia russa, Sergei Skripal. Il portale di giornalismo investigativo Bellingcat sostiene infatti di aver individuato un terzo individuo, un alto funzionario del GRU, l'intelligence militare russa. Il suo nome è Denis Sergeyev, ma si farebbe chiamare Sergei Fedatov. Bellingcat sostiene che le autorità russe negli ultimi due mesi avrebbero provato a cancellare le tracce dell'esistenza di Sergeyev, così come fecero in precedenza per Anatolice Piga e Alexander Mishkin, gli altri due sospetti individuati sempre dal sito investigativo inglese. Nel marzo del 2018 l'ex agente segreto sovietico naturalizzato britannico Skripal e sua figlia Julia furono vittime di avvelenamento da Novichok, un gas nervino, a Salesbury in Inghilterra. I due, trasportati in ospedale in condizioni critiche, dopo alcuni giorni si ripresero e si trovano ora in una località protetta. Scotland Yard ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.